Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, primo Family Vlogmas, ce ne saranno 10 e oggi sarà il nostro primo Family Vlogmas, quindi mi raccomando iscrivetevi subito al canale e lasciate un bel like a questo video per vedere anche tutti i prossimi episodi dei nostri Family Vlogmas. Oggi apriamo in questa splendida spiaggia a Fuerteventura che è Playa del Sottavento ed è stupenda, veramente stupenda. E adesso ve la facciamo vedere e oggi invece come primo Family Vlogmas per iniziare, c'è un bambino che scorazza, andremo poi a comprare tutte le cosine natalizie, un pochino di abbigliamento, perché non abbiamo niente di natalizio per entrare un po' nel clima. Cosa? 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 Vieni qua! E lo scelgo tutto io! Sceglierà tutto Ricky, ecco, sceglierà tutto Ricky, quindi speriamo bene, speriamo bene questo primo episodio e andiamo! Oh, i signori sono nudi! Cosa? I signori sono nudi! Perché ci sono anche un po' di nudisti! Vedrai un po' di persone nude! Vabbè, amore, è normale, è natura! Noi adesso andiamo lì in fondo dove c'è proprio la marea bassa e quindi si vedranno veramente gli spettacoli pazzessi. Allora, andiamo! Ok, penso sia bassa marea, infatti, quando c'è bassa marea si può, possiamo vedere, beh, sì, è più caldo il cuore. E possono vedere proprio queste penisole di sabbia che riaschiorano. È fredda? C'è il rinchi avventuriero che va sulla penisola. È bella prezzina la questa. Esattamente, amore, cosa stai facendo? Fare kite, amore, è invidioso di fare kite zone. Qua è pieno di kite per il tempo. Andiamo, andiamo! Dove andiamo? Dove andiamo? Sì, lui vuole salire sui kite, amore. Intanto qua ce l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto la nostra prima vacanza in famiglia con Righi. Abbiamo fatto 4 mesi. 4? Se va lì. Se va, vai da Righi ad aiutarlo, vai! Sì, lui vuole salire sui kite. Ho la testa grossa, ho la testa grossa. Non ridere dalla mia testa. Siamo tutti i natalizi. Adesso andiamo a fare shopping natalizio. Dove io scelgo tutti i vestiti. Scegli tutto righi, scegli tutto righi. Ci serve sicuramente un bel maglione natalizio. Magari qualcosa della mia taglia lo troviamo. Dove vediamo queste cose che non c'è tanto. Non scende. È imbarazzante. Righi, sei carico a fare shopping per mamma e papà? Suo cappuccino. Troppo concentrato sul suo cappuccino. Tra l'altro il primo negozio potrebbe essere quello, C&A. Sì, direttamente. Sì, che noi in Gran Canaria non ce l'abbiamo. Davvero? No, non ce l'abbiamo. In verità si è appena trangugiato un sacco di questi. che è l'anti-ox mix di Prozis. E beh, buonissimo. Questa è la prima scelta di Ricky. La vuoi prendere anche per Seba o solo per te? Per i due. Per i due? Vediamo se questa va bene per Seba, perché non c'è più piccola. Non so. Dici? Al massimo è un po' l'articolo. Al massimo ci cresce dentro. Grazie. Ti piace questa? Ti trova le taglie allora. Vedi se ci sono? Qual è? La mia? La tua è 9-10. Seba è 3-4. 9-10. 9-10. E 4. Purtroppo per noi grandini di natalizio non c'è niente. Ma una tristezza, cioè siamo entrati anche ad H&M. Niente, zero. Niente, zero. Non c'è niente. Solo per questi piccoli. Sì, non è niente. Ricky ha trovato queste ciabattine stupende. Fa vedere che belle che sono. Super natalizie. Bellissime. Tra l'altro sono anche fatte bene. Che numero c'è? C'è un numero per tutti e due? Non ho trovato il numero. Non c'è. Non so dove è il numero. Vediamo. 24-25. Questo è piccolo. Piccolo. Quale serve? 26. 26. Non c'è il numero neanche per Seba. Casano. Che belli sono questi, mamma. Ti piacciono? Seba. Sì, questi vanno bene. Fa vedere che numero è. 28-30. Siamo bene. Sì. E questa tutina qua non li sta. Ma non è questo per te. Bello, bello. Fa vedere. Di mamma Natale. Di mamma Natale? È bello, è bello. Mi piace. È bello caldino. Sceglie bene il mio bambino. Pausa, caffè. Asciutto, saccarina. Amarino. No, nada, nada. Io amarino. Grazie. Quale vuoi? Se è amario o è... Sì, amario. Sì, amario. Sei soddisfatto del tuo shopping? Non c'erano tante cosine, però dai. Io non ho avuto niente. Niente. No, non c'era niente più caldo. Non è che dici. Non è che dici. Che santo. Così, amare. Ho visto proprio tutto il succo che gli finiva addosso, sì. Non siamo stati super fortunati, però siamo venuti nel centro commerciale più grande nel capoluogo. Però non c'è molto abbigliamento natalizio. Io speravo di trovare almeno dei pigiamini, qualcosina. Non ci sono Leftys e Primark, che sono i capisaldi di queste cose. C'era Leftys a Gran Canaria che praticamente usciva Babbo Natale a tirarti dentro. È vero, è vero. C'erano un sacco di cose natalizie bellissime. Infatti io speravo di fare qua un bello shopping. Però quando torniamo a Gran Canaria, o in Gran Canaria? In Gran Canaria. Chi vuoi dire? Ah, in Gran Canaria andremo da Leftys Primark e andremo a comprare finalmente i nostri tijami, dei maglioncini natalizie, tutte queste cose qua. Per il momento questo primo episodio dei nostri Family Vlogmas è terminato. Noi ci beviamo il nostro caffettino. Cine. Cine. E torniamo a Casina. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo Family Vlogmas. Ciao!